Salve a tutti amici youtube, oggi volevo presentarvi un nuovo tiu che ho fatto io col mio socio Andrea e il mio primo tiu che sono riuscito a fare questo tiu è semplice, non è un tiu con molte cose ora vi faccio il link in descrizione e vi faccio vedere cosa contiene avremo la pagina di mediafire lo scarichiamo e abbiamo questo cd autoplay doppio clic si presenterà così se andiamo a cliccare su andrea19500 si aprirà il suo canale e se apriamo settopino si aprirà il mio se noi clicchiamo questo postantino qui si apre un file RAR che noi andiamo a estrarre su desktop ed è un programmino molto interessante che in poche parole al contorno della finestra ci sarà una specie di neon, infatti si chiama neon andiamola a vedere, doppio clic su questo programmino ecco qua si vede a questa sorta di finestra blu ora non capisco perchè, ecco possiamo cambiare il colore, basta fare doppio clic sull'icona cambiamo il colore, facciamo ok, io lascio il blu perchè mi piace infatti noi è molto bello questo programma molto molto l'abbiamo trovato sul web ecco e per il mio primo motivo lo so, non è tanto bello però sono riuscito a fare questo da qua si chiude, da qua si minimizza e da questo è tutto, alla prossima